Ciao a tutti gugi, benvenuti dal vostro andrelincro91 su Pagamon Prisma Siamo nella Firelight Cavern in questo episodio, devo riuscire ad arrivare alla prossima città e probabilmente ad affrontare anche una palestra Però possiamo saltare i pizzetti di lava a quanto pare Però vorrei sapere dove ci porta questa stanza, abbiamo degli allenatori anche qui dentro Meglio stanza della Firelight Cavern con il volume sempre altissimo Abbiamo un allenatore qui, si ok è un allenatore Chiamarsi fighi da soli non è arrogante, no Questo è quello che ha detto lui Cool Trainer, ok è un Cool Trainer Allora abbiamo un Andauro che è facilmente fattibile insomma anche con un Manectric al 33 E Andauro al 31 insomma è abbastanza potente Manda Graveler, io cambio Pokémon ovviamente Mandiamo Larvante così almeno prende un po' di punta esperienza a sto povero Larvante Povero tatino su Mi chiedo se collegando questo gioco con Pokémon Stadium 2 sia possibile passarsi i Pokémon Perché in teoria questo gioco sarebbe oro e argento e cristallo sarebbe praticamente La differenza è che alcuni sprite, alcuni versi anche, sono dei Pokémon di terza, quarta e quinta comunque sia Mi chiedo è possibile Passarli su Stadium 2? Pokémon Stadium 2 per Nintendo 64? A breve dovrei comprarmi, meglio ricomprare Pokémon Stadium 1 oltretutto E poi mi comprerò anche il 2 ma compro l'uno più che altro perché quello che ho è loose, l'ho trovato così loose Proprio gratis, no davvero gratis l'ho trovato E vorrei comprarne uno perché dentro, quella confezione, quella originale l'ho trovato anche a poco l'ho trovato Non lo tiene da parte, ma neanche mai nella vita L'ho trovato a poco con i box in mint condition con... Con il Transfer Pack, penso che il Transfer Pack fosse in tutti quanti gli Stadium, comunque sia Il primo Pokémon Stadium ai tempi E dovrebbe essere europeo, quindi italiano Perché comunque sia era un Multifive e in base alla regione della console ti riconosceva comunque sia la volta Ma non è questo il problema, il problema più grande è che non ho il Transfer Pack E vorrei provare appunto, quando avrò il Transfer Pack, a mettermi questo gioco O meglio, dovrei comprarmi una Eats Flash per leggere questo gioco E poi vedere se posso passarmeli sul Stadium 2 Non so però se il Transfer Pack legge le cartucce del GBA Se le supporta o se le legge, cioè tutte e due le cose alla fine Ho dei Repellenti, mi sta venendo il dubbio, dicono invece di perdere tempo Dovrei avere dei Max Repell a dire il vero, ma non ce l'ho Super Potion, Paralyze Heal, no niente Vabbè andiamo avanti così, questa non si sa È un Pokémon selvatico È troppo umido qui Mi sta per rimettere a sudare Boh Qui è troppo umido, si sta bagnando Andiamo un po' con Fulmin Denti, che comunque sia è un buonissimo attacco Riuscire a implementarli in questi giochi non è fa... Eh, Flare Blitz, porca miseria Fuoco Carica? Fuoco Carica davvero? Niente, non ha fatto nulla, non ha fatto Va bene Rai Horn, Rai Horn cambio Abbiamo Teflotion, l'Arvante non mi ricordo Meglio, Pupitar, non mi ricordo che livello si evolve in Tyranitar Ma prima possibile, spero Andiamo con Fossa Vorrei allenarlo tantissimo, però non posso Perché comunque sia, gli episodi li faccio abbastanza lunghi Non è che posso fare una run di prova per vedere dove andare Porca puttana, Magnitudo? Magnitudo ha lo stesso effetto di terremoto quando ti trovi sotto terra E wow, quindi a Magnitudo Non posso contrastarlo più di tanto Però se c'ho un Revitalizer glielo butto No, mai, mai, mai nella vita Andiamo Cinder, boh, non lo so ragazzi Questa sarà un po' dura Perché è roccia terra Andiamo con lo Stub Andiamo con una mossa da Stub Decentissimo Decentissimo Dust Devil Ah Super effettivo, non mi ha fatto nulla Andiamo con Raiorn, ancora chi ha? Terzo Pokémon, Charmeleon Mi piacerebbe tanto mandare l'Arvante ma non posso Revitalizzarlo Non ho Revitalizz Ante Boh, andiamo con Comete Tanto Anche faccio Lancia Fiamme Che è da Stub Non gli faccio nulla Ecco, l'acerazione fa male invece Se fai brutto colpo L'acerazione fa tanti danni Fa tre volte il danno normale E questo non è buono Non è affatto buono Prendere un crit in questo punto del gioco E sta sudando Bene Mi piace una ragazza che suda Ma nella vita Dipende Dipende perché sta sudando Ok, posso ufficialmente dire di andare qui Anche se di là c'era un'altra strada da esplorare Ok, qui c'è solo Magmarizer Aspetta, Magmarizer e Magma Magmato Magma Com'è che si chiama? Quell'oggetto che fa evolvere appunto Magmar Magmortar Non so in italiano Cioè in italiano lo so ma non mi ricordo Magmatore dovrebbe essere se non vado errato Oh Graudun No, 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 no Oh Mi prendi per il culo? Sembrebbero stati di un Pokémon fiero Sta tenendo qualcosa tra le sue braccia Forse è un regalo da qualcuno? Ah no Sta tendendo le sue mani Le sue braccia Che regalo può essere? Non ho la minima idea Sinceramente Non so davvero che dirvi Ora dobbiamo andare di qua Aspetta O di qua Eh, o di qua Oppure Ah, si possono andare qui Ma questa è la strada che abbiamo visto prima Dall'altra parte intendo Ok Bocchiali neri Però Facciamo una cosa Torno su un attimo Facciamo una cosa Facciamo una cosa fatta bene Esploro questa piccola rientranza qui Non so cosa ci sia Se si va avanti troppo Non lo so Ah, ok Giovane Ti prego Ti prego Lascia che ti aiuti Oh, puoi aiutarmi? Non posso muovermi Il mio amico Il mio amico possiede un corpo forte fatto d'acciaio Sarebbe capace di trasportarmi a casa? Puoi portarmi da lui? Ah, percorso 80 Starà riposando Per favore Muoviti Non ho capito Ok Sfidiamo sto tizio Ok Stiamo proprio vicini Ha detto Agli schizzi di lava Quindi se tu vuoi morire con la lava Fatti sotto Per favore Mitch manda V-Pings Io mando Iai Che sta proprio praticamente quasi sul punto di crepare Poverino Ma dovrei essere abbastanza tranquillo Contro gli alienatori in questa grotta Caverna Ancora Flare Blitz Non mi ha fatto nulla prima Non mi farà nulla anche adesso Se non fa il critical Wow Quick attack Bitch E' andato giù Andiamo un po' Vole mandare l'Iron Porca miseria L'Iron la mando Cinder L'Iron è in parte terra-acciaio Oh Roccia-acciaio Io non mi ricordo mai Sto l'Iron Quale tipo Quale più tipo è Comunque si andiamo e sentiamo Roccia-acciaio Dust devil Ma dovrebbe farmi molto Dust devil 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 Dovrebbe essere devil The devil The devil Si si Devil Non devil Devil The devil Ok no Andiamo Continuiamo Arcanine 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 Non ha extra rapido Potrebbe essere un buon segno Però Take down Riduttore Ecco Mi sono ricordato Riduttore Quando era due video fa Che non mi ricordavo Take down Cos'era Riduttore Ecco Continua a fare Riduttore Si Posso prendere un altro colpo Quindi ti faccio ancora Comete Così Allora Ok Meno male Non è extra rapido Non ha attacco rapido Conosce solo Riduttore Perfetto Però sto di cazzo Sto nei casini Ora Batch was defeated Dannazione a tutto Eh vabbè Non ho roba per curarmi Probabilmente Pozione Dovrei andare a curarmi Penso di sì Ok Sono tornato Ho fatto un bel po' di scorte Vediamo cosa ha da offrirci Questo Labirinto Infuocato Non so dove sto andando Probabilmente la strada è giusta Quindi Torniamo un attimo sopra Ok Abbiamo una pokeball qui Sunny Day Non so Effettivamente Cosa Si aspetti Quella statua Che abbiamo trovato prima Che sembri raffigurare Un Graudon Non ho idea di cosa possa volere Il repellente è finito Siamo in un altro Sì Perfetto Abbiamo questo qui Niente brucia qui È posto Perfetto Cosa? Forse Ah qui non può bruciare nulla Quindi è posto perfetto Per praticare Eh Magpunch Wow Pugno rapido Brutto colpo Eh certo Certo Vai l'arvante Fallo secco con un attacco solo Se no un altro Magpunch Se fa brutto colpo Ti distrugge Ok Comunque se ho Ripetalizzanti Super pozioni Super rebellenti Ho tutto Ho fatto una bella scorta Un altro Magmar Voglio provarci Livello 33 Potrebbe Potrebbe resistere La fossa? Non lo so Però se resiste Cambio pokemon Perché Garvante non può stare Contro uno che fa pugno rapido Quando mai te lo aspetti Io non me l'aspettavo Sinceramente un Magmar Con pugno rapido Però saliamo al 33 Finalmente Sarà di livello Vuole usare Flerion Flerion Cambio Per ricaricare Comunque sia L'arvante Non so Se Flerion Possa fare attacchi Lotta A parte doppio calcio Comunque sia Da Eevee Però vediamo un po' Insomma Cosa da offrirci Questo Flerion Vabbè Penso che contro Firespin Contro Magrind Ok Si è risparmiato Credo Comunque sia computer Sa Quando si trova di fronte A un pokemon Debole Appunto Livello 4 Insomma Lo sa Non è che Computer non leggi Il tuo livello Anzi Non sa da prima Non tentennare Ok Niente brutto colpo Comandato K Comunque Il che è una buonissima cosa Wow Quanti punti esperienza Cioè Con l'arvante Dico Vabbè Sto tranquillo Perché tanto qua Ci sono moltissimi Pokemon di fuoco Sto in vantaggio No Sto in svantaggio Comunque Può salire Saliamo Allora Penso che tornerò indietro Andrò sotto Perché comunque sia Vedo che qua sopra Si va avanti Penso che La cosa da fare Sarebbe uscire Quindi andare in alto Quindi vado ancora sotto L'arvante Non sta affatto bene Qui Se questo mi fa Un magnitudo Sono fritto Vediamo un po' Quanto gli fa Dovrebbe mandarlo K 4x Perché è roccia Comunque sia In parte In parte è roccia Quindi un 4x Tutto quanto Lui se lo becca Ponita Ponita Oddio Doppio calcio Ponita L'unica cosa Che posso aspettarmi Di potente Un terremoto Ponita No Agilità Io vado sotto terra Ma non so Se te ne sei accorto Eh Porta fuoco Non se ne è accorta Non se ne è accorta Non so perché Ha potuto fare agilità Cioè Poteva farmi dei danni Ma Sarebbe servito a poco Però Uno almeno ci prova No Questa roba non ci prova manco Ninetease Ninetease Oddio Non è che Ninetease Sia chissà quale Pokémon potente Proprio in split Insomma Mi ha ricaricato Invece di Di ricaricare Cioè È stata assurda Come mossa Mi ha ricaricato E' roba che Ha più punti salute lui No Non gli frega niente A computer Il computer Magari la mossa migliore Che può fare Era quella No Poteva fare Cuocobomba Non mi lasciano performare Le mie tecniche Col fuoco Li Mangiafuoco Praticamente Mangiafuoco Non mi lasciano fare Le tecniche Mi lasciano provare Appunto le mie tecniche Li Ebbene Se tu in un parco Usi il fuoco Io ti caccio Al calcio In culo Non è che ti caccio Al calcio Al calcio In culo 2 a 2 Finchè non porta Dispari Ok Cioè A volte in Pokémon Mettono testi assurdi Nelle Akrom Non nei giochi Nei giochi principali Ne trovi 1 o 2 Ma qua è pieno Cioè Nelle Akrom Sono piene Intanto Continuo a trovare Pokémon Di tipo fuoco E questo mi ha fatto Il uovo Il fuoco fatuo Che sinceramente Mi fa un po' Incapocchiare Perché Mi dimezza l'attacco E con l'attacco dimezzato Non è che posso fare molto A parte Shottarlo Iai Andiamo con Fulmintenti Cerchiamo di Paralizzarlo O almeno Farlo No Flincia Con Fulmintenti Dovrebbe flinciare Non paralizzarsi Sì Mi sembra che Fulmintenti Fa flinciare Fa tentennare Non paralizzare Mi pare Non ricordo di preciso Andiamo con l'ora Con Scintilla Che Scintilla Sicuramente No Scintilla no Non fa nulla Allora Mi ha fatto Turbo fuoco Turbo fuoco Ha missato Perché Perché il gioco Gli ha detto che doveva missare Non so perché missa Nei giochi di Nelle vecchie generazioni Missava Dalla terza in poi Non missa Cioè Può missare Può mancare Bersaglio Missare Però insomma Comunque si può sempre colpirti Poi Si è bruciacchiato Il nasino Poverino Ok andiamo sopra Eccoci Provincial Park Bello Sprechiamo il repellente Ma si Tanto No Non lo so il repellente Capace qua Non c'è manco bisogno di usare Allora Hanno detto Quel mangiafuoco Hanno detto Che l'hanno cacciato fuori dal parco Perché Stava praticando Le sue tecniche col fuoco Chi ti ha cacciato Di grazia Si può sapere Non c'è nessuno Non c'è nessuno A parte i pokemon Ah i pokemon L'hanno cacciato A calcio in culo I pokemon Vabbè Può succedere Può succedere Oh Allervante scottato Non si sa mai Non si sa mai Lo cura Poi C'è una sfida Che sta andando Qui al parco Interessato Istruzioni Bene Ecco le istruzioni Praticamente sarebbe La sfida Che facciamo In pokemon Regente Cristallo Al parco nazionale Dobbiamo andare O da Kineadok Oppure A percorso 80 Perché c'era Questi Ma poi c'è un centro Ma Un super nerd Che mico Cambia la musichetta Devi scoppiare Malissimo Nella tua vita Presente Passata E anche futura Devi scoppiare male In tutte le posizioni Possibili E immaginabili Pitch Ehm Dovrei andare A percorso 81 A cercare Quell'amico Fatto d'acciaio Diceva La casa La casa Su percorso 81 Profeta di Nalgio Questo voglio Sembra Preoccupato Ti colpisce a piedi Ok Non posso portarla come Perché io team È già pieno Mi tocca Depositare Pizza Pie Oddio Pizza Pie È la prima volta Che lo tolgo dal team Tranquillo Pizza Pie Non ti preoccupare Verrò a prenderti Prima o poi Il mio team Ormai è quello Pizza Pie Deve rimanere un Caterpie a vita Sì Andiamo 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 Aggron Aggron ora È a 40 Potrei portarmelo con me Insomma È una bestia Dato in scambio Facciamo una cosa Io salvo E lo porto Dal suo padroncino Se poi Non me lo regala Risetto il file E me lo tengo Se il gioco Dà possibilità Di farlo Perché no Non capisco Boh Ci siamo Vediamo un po' Se poi me lo regala Altra di mio partner Sì Grazie al cielo Ok Il mio amico Mi porterà a casa Ad ogni modo Se ne serve Un quarto aiuto Ah Ci sono delle persone Che stanno cercando Di risvegliare Guardiano di Nalgio Non sanno che il guardiano Ucciderà tutti in Nalgio Di quelli che non posseggono La linea di sangue Della prima generazione Perciò Le persone Facendo di Pokémon Moriranno se si svegli Per favore Fermali a tutti i costi Allora 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 Vediamo un po' Se Se ne vale la pena Ma dove Saliamo? I Power Ranger Ancora loro? Ancora loro? Lasciamo perdere Aggron Però ci torno Se Aggron vuole venire con il team Mi farà molto piacere Mi farebbe Abbiamo un Wiggly Wigglytuff Che È un Wiggly Jiggly Episodio numero 6 5 o 6 Mi sembra Wiggly Wigglytuff Andiamo un po' Confesso Almeno Avete un attacco Oh Mi caccio Un magnitudo Sweet Kiss Sweet Kiss è pericoloso Molto pericoloso Dai Accidenti Cute Charm Infatuato Mi ha infattato con Cute Charm Innamore Non è innamorato No Lei non lo è Grande Grande No Non dovrebbe funzionare Non dovrebbe funzionare così Prima scavi la fossa Poi lo All'inizio pensavo che Slowking evolvesse da Slowbro Dato che Slowbro comunque sia Era un'evoluzione di Slowpoke L'avevo scoperto Una decina di anni fa Anche di più 26 16 14 anni avevo Quindi 14 Che Slowpoke si evolve in Slowking Quando tiene racciadire durante uno scambio Non che Slowbro si evolve in Slowking Tenendo racciadire durante uno scambio Così come Poli Whirling Politude E' bello scoprire certe cose Per puro caso Alla fine Perché se no una volta c'era Pokemon Pokemon World Che poi è diventato Pokemon Mania E O Pokemon Mania Uguale alla fine Se siete Inglesi Puritani Se no Chiamatelo come vi pare Pokemon Mania E Lì c'è un sacco di informazioni Sulle evoluzioni Poi hanno fatto Anche loro Hanno portato le IV e le EV Dopo anni Che io già ormai lo sapevo Ma le avevo già imparate a memoria E ogni 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 mese Usciva un numero E portavano Ogni tanto Qualche guida Pure Era carina Era carina Non so se la fanno ancora Oppure se Se è finita Tipo NRU NRU Mi è dispiaciuto un sacco Non la seguivo molto Però mi è dispiaciuto Quando hanno smesso di pubblicarla Perché poi ora con la Switch C'è insomma Anche un bel po' di notizie ci sono Potevano continuare a vivere per un'altra decina di anni almeno Però l'hanno fatti chiudere Hanno provato a cercare un altro editore Ma nessuno li ha voluti Perché si vede che le vendite Non erano granché Quindi insomma Se un giornale non vende Lo chiudono Oppure se non c'hai soldi Ti fanno chiudere Perché i giornali di gossip Ce ne sono 354.999 E stanno ancora in piedi Quindi o le donne Si vogliono fare tutti quanti i cazzi degli altri Le casalinghe Che non hanno un cazzo da fare Oppure davvero questi giornali Chi li ha Chi ha le case editrici di questi giornali Hanno i soldi Voglio dire Se tu vuoi fare un giornale Dove parli dei cazzi degli altri Di giocatori Di Belen Che si lascia e si ripia Con la stessa persona 10.000 volte Mi sta pure bene Ma non che i 10 giornali Parlano tutti quanti della stessa cosa Come fanno a stare a galla 10 giornali Che trattano lo stesso argomento Guarda Preferirei 10 riviste Nintendo Piuttosto che i 10 giornali scandalistici Ma questo era chiaro Quindi io mi chiedo Come fa una rivista come Nintendo Vendeva Vendeva Almeno faceva 5.50 4.50 Facciamo 5 euro a copia Che poi aumentava sempre il prezzo Di mese in mese Aumentava Maledetti 5 per 10 Sono 50 500 5.000 Paga i dipendenti Insomma Diciamo che tirava su Almeno 7-8.000 euro al mese Li tirava su Paga la carta Paga l'ufficio Paga il materiale Paga i 5 dipendenti Erano se non sbaglio Insomma non è che ci rimaneva molto Però Si vede che comunque sia tu La casa editrice ti paga Per pubblicare La rivista Tu paghi la casa Poi la casa Insomma Con gli introiti Ti paga a te E' un po' diversa Da come la sto spiegando io Però insomma Per capirci Non vendevano Granché bene Se effettivamente Non hanno trovato Nessun'altra casa editrice Che ti pubblica I numeri Penso che una casa editrice Per farti pubblicare Un giornale Insomma Abbastanza venduto Come Pokémon Come NRE La rivista ufficiale Almeno 10.000 euro al mese Devi fare Almeno Secondo me Purtroppo Si vede che non li faceva Però gli introiti Insomma Ho letto qualcosetta Guadagnavano bene Certo O rinunciavi a due Del personale E allora si Lì che davvero Potevi restare a gallo Oppure Comunque sia Sono giornalista Non è che lavoravano Solo a NRE Lavoravano anche Altri giornali Quindi alla fine Il lavoro ce l'hanno Non è che Sono rimasti senza lavoro Diciamo che NRE Era una cosa a parte Ad ogni modo Tornando al gioco Io sto affrontando Quelli che io chiamo Power Ranger Anche se in realtà Sono Pallet Patroller Praticamente Pallet Pallet Town La città natale di Ash Bianca Villa Non è che si chiama Bianca Villa a caso Pallet Town Città Colore Si chiama Bianca Villa Proprio perché Non ha un colore Predefinito Si chiama Pallet Che sa indicare La palette Il colore E non ha un colore Definito Quindi È per questo Che si chiama Bianca Villa Non è che danno I nomi a caso Oddio New Bark Town Borgo Foglia Nova Insomma Insomma Qualche nome È dato a caso Ma non nella prima generazione Ok Il boss Ti ha chiamato A far venire qui Per bloccarmi Ok Devo andare Quaggiù Quindi Ok Mi butto nel buco No Non devo andare Qui Devo andare Su invece Ok Le fatterebranze Finito Si chiamano un altro Dunque Mi ha mandato giù L'Arvante Quindi penso Di revitalizzarlo Arvante Voglio portarlo A livelli alti Ragazzi Non posso Lasciarlo Andiamo di qua Ovviamente Ah no Ecco Oh A questo qui Dovrebbe essere Posto Quindi A Pokémon rossi In genere I Pokémon rossi Sono di Pokémon Di fuoco Ok A parte Quello rosso È quello Il capo Questo è arancione Si vede Ma l'arancione L'ho mai affrontato Un Power Ranger arancione Anche perché Non esiste Power Ranger arancione A meno che Non è rosso Ah no È rosso È rosso È rosso Oh È rosso Paraculino Anche mi mandava K.O. Con un attacco rapido O simili Eh Vabbè Mandavo l'Arvante Revitalizzavo E a posto Non importa Non importa cosa Sei proprio come Tu padre Ha risobbedito Alle nostre vie Per cercare La popolarità E si è proclamato Maestro di Pokémon Beh D'ogni modo Questo cambierà Tutto questo Cambierà La tua famiglia Ha tradito Nalgio Per l'ultima volta La cultura Di La 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 Orgogliosa Cultura Di Nalgio Quindi Pokémon Leggendario Sarà risvegliato Ancora una volta Perché Perché siete Stronzi Sono ancora Confuso Red Perché siamo Qui E perché Dobbiamo Tenere queste Tute Ancora Non sono Tute Sono Garbo Non so cosa sia Garbo Quindi non chiedete Ma lo sono Tradizionali Nalgio Garbo Come ho già Detto Andy Dobbiamo Finire La regione Dobbiamo Cercare La spera Dei guardiani Una volta Che Varaneus Si sveglia Non so Chi sia Varaneus Non è un Pokémon Conosciuto Nalgio Tornerà A paradiso Che i nostri Padri Una volta Conoscevano Ma perché Ci sono Solo Perché ci siamo Solo Nei tre Ho sentito Che gli altri Sono stati Arrestati Ma Uno di loro Ha stato arrestato Gli altri due Gli altri sono Traditori Criminali Che volevano Soldi e Pokémon rari Ok volevano Solo soldi e Pokémon rari Noi non siamo Il Team Rocket Noi siamo Non permettiamo A quelli che vengono Fuori di Interromperci Su ciò che è Sotto dimenticato Nella nostra Cultura Ma Loro stavano Cercando di Aiutarci A prendere I soldi Così che Potiamo Coprire Ancora più Terreno Capito Comunque Sia Rosso Dice che Anche Blu la pagherà Se lo tradisce Ok Capito Sì Ti ricordi Cosa ha fatto A quel Team Rocket Che ha cercato Di rubarmi Il Pokémon Per favore Vorrei Dimenticarmelo Cosa gli ha fatto Gli ha rotto Le gambe Gli ha strappato Le braccia Però che continui A insistere Di metterci Bastone tra le ruote La creatura La creatura Vareno Varaneus Varano Varaneus Forse intendono La creatura Che ha la forma Di un varano Non è che Gradon Sia proprio Un varano Più un Bamut Ma Vabbè Varaneus Ok Farà Ribollire Il mare A suo piacimento Proteggere Analgio E Ok Svegliare A suo sonno E lo cattureremo Tutto mio Questo è Varaneus E' stato Addormentato Per Secoli Analgio Ha bisogno Dell'aiuto Dei tre Guardiani Tu E degli altri Tre Guardiani La cultura Di Analgio Sta Svanendo I discendenti Hanno visioni Di uomini Coreani Non ho capito Poi in poche parole Questi sono I pallet patroller I power ranger Sono Coloro che cercano Nelle antiche scritture Di Analgio Di risvegliare I tre guardiani E di far Dominare loro Il mondo Per riportarlo All'antico splendore Questo è quello Che praticamente Stanno cercando di fare Perché mi attacchi Sono un discendente Attacca anche lei Le mie gambe Sono rotte La mia gamba E' rotta E' bello Sto Varaneus Mi odora Quel pokemon Ha rubato Le altre sfere Nobu Capo Sono qui Sembra che abbiamo Finalmente Siamo usciti A rintracciarvi Ragazzi Vi richiuderemo In cella Per bene Ok Dove sono verde Giallo Ah non importa Stiamo facendo progressi Ragazzino Fai parte anche tu Di questo gruppo No Ufficiale No Poliziotto Ok No Lui è un fanatico Ok Poche parole Insomma Varaneus L'hanno disperato Varaneus Sono attaccati E ora Lens E' tuo padre Il Il leggendario Maestro Drago Cazzo C'è Praticamente Lens è mio padre Sta dicendo Ok Vuoi venire con me? No Non vuole venire con me Ok Allora Un testo Troppo lungo Ad ogni modo Il messaggero Di Nalgio Era quello Che controllava I tre pokemon Leggendari Appunto Non ho letto i nomi Perché Non vi dico i nomi Perché comunque Si sono impronunciabili Il problema E' che Ho mandato Tanto veloce Il testo Che sono riuscito Solo a capire Che Ci sono tre pokemon Leggendari Mi ha detto I nomi Degli altri due Ma Ci ha messo Un minuto Solo per andare Tutto quanto Quel testo Senza leggerlo Quindi immaginate Un po' Che casino Che è Ecco Questa mi ha visto Sfidiamo anche questa In poche parole Vorrevo concludere Qui il video Almeno Penso che abbiamo fatto Un bel po' Di progressi Per oggi Salvante Vuole imparare Geoforza Ok Si 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 Assolutamente Vi levo Rockthrow Che mi sta Come non mai E impara Geoforza Yes Geoforza è molto utile Meglio di fossa Potevo levare fossa Ma no Niente repellente Ok Per questo video Lo concludo qui Spero che vi sia piaciuto A me è piaciuto Un casino Abbiamo scoperto L'esistenza di tre Pokemon leggendari Di Nalgio Tipo i tre Cagni leggendari In ore argente Cristallo Molto interessante E Abbiamo scoperto Che Lance La reincarnazione Del messaggero Che controlla I tre Pokemon leggendari Praticamente È Gesù Vabbè Ad ogni modo Io come sempre Vi ringrazio per aver seguito Questo video Ci vediamo Nel prossimo Bye bye Musica 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 Musica